Ciao a tutti, per la rubrica tipo d'uomo, tipi di uomini, in questa rubrica voglio parlare del chemosh, che dopo il maschio alfa non si può fare meno di parlare del suo opposto, cioè il chemosh. Intanto, chi è il chemosh? Il chemosh è un tipo d'uomo, diciamo, che è esattamente il contrario del maschio alfa, sta agli antipodi. Il chemosh si appoggia sempre agli altri. Ecco, potremmo dire che ha un riferimento esterno, vuol dire che non ha un riferimento interno, cioè non basa le sue scelte, le sue decisioni su se stesso, su quello che sente, ma su quello che gli altri le dicono. Il chemosh è sempre, potremmo definirlo, un collaboratore. Ha sempre bisogno di un capo, ha sempre bisogno di qualcuno che gli dica cosa fare, ha sempre bisogno di qualcuno che gli dica, che gli dia istruzioni. Anche da un punto di vista sentimentale, il chemosh ha sempre bisogno di una donna mamma, una donna mamma che lo mette in riga, che lo bacchetti come un soldatino, che lo faccia trotterellare e paradossalmente il chemosh ha questo complesso, che è il complesso del condizionamento. Cioè deve essere condizionato, completamente, costantemente e in ogni modo. Condizionato cosa vuol dire? Che lui non deve avere la possibilità di decidere nulla della sua vita. Ci deve essere sempre qualcun altro, in questo caso una donna ad esempio, che decida di stare col chemosh. Ora uno dice, ma perché una donna dovrebbe stare col chemosh? Eh beh, perché ci sono donne che hanno la sindrome da crocerossina. Adesso poi, non so, farò questo video anche sulle donne con la sindrome da crocerossina che vanno alla ricerca di uomini impotenti, vanno alla ricerca di uomini, sì perché il chemosh è anche deficitario, diciamo, su un piano erotico. Non è uno, insomma, alla rocco, anzi, è l'anti-rocco per eccellenza. E quindi vanno alla ricerca di uomini bambini, vanno alla ricerca di uomini impotenti, vanno alla ricerca di uomini da accudire, come delle brave mamme. E quindi anche il chemosh ha la sua controparte, per cui qua nessuno resta fuori, tutti riescono a trovare qualcuno se vogliono, quindi non disperate, anche se siete chemosh, riuscirete a trovare la vostra controparte, che vi tartasserà, vi fustigherà, ma a voi vi fa piacere così, quindi riuscirete tranquillamente ad avere, insomma, quello che desiderate. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al canale. Ciao!